Chiude per assenza di pazienti la rianimazione appositamente allestita per i malati di Covid-19 all'ospedale Mazzini di Teramo. Anche l'ultimo paziente affetto da coronavirus è risultato negativo e dunque dimesso. A tutto il personale medico e sanitario del reparto di anestesia e rianimazione del nosocomio teramano va la gratitudine dell'intera città. Dopo aver lavorato per settimane lontani dai propri cari e sostenendo turni di lavoro estenuanti, i rianimatori del Mazzini tirano un sospiro di sollievo ma non abbassano la guardia. Il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione Stefano Minora ripercorre i mesi appena trascorsi. Qui da noi per fortuna siamo riusciti a chiudere con l'ultimo paziente che si è negativizzato nei giorni scorsi. Siamo felici che siamo arrivati a questo punto per il semplice motivo che era uno stress grande per tutti i colleghi, per gli infermieri, perché i nostri organici non sono così pieni, per cui tutti si sono sacrificati, hanno lavorato a ritmo pieno, mesi senza nessun giorno di ferie. E direi che il chiudere intanto per i pazienti ritengo che sia cosa importante e anche per il personale che ci ha lavorato secondo me è un bel traguardo raggiunto. I ricoverati in rianimazione Covid al Mazzini di Teramo sono stati 11 e il tasso di mortalità molto basso. Inoltre nessun medico o operatore sanitario del reparto è rimasto contagiato dal virus. Abbiamo avuto una buona sopravvivenza, direi che c'è stato un ottimo risultato, abbiamo avuto una sopravvivenza oltre il 60% e sono risultati importanti perché sicuramente siamo in linea con le rianimazioni più accreditate anche di altri posti. E se mai il coronavirus dovesse ripresentarsi ad ottobre? Il Mazzini come si farà a trovare? La speranza ovviamente è che non accada. Se dovesse accadere abbiamo intanto quei posti lì che sono presenti al terzo lotto rimarranno e poi ci stiamo organizzando con due posti all'interno della rianimazione generale con tutte le caratteristiche di pressione negativa, di isolamento, di uscita a parte eccetera, per eventualmente se è necessario accogliere uno o due pazienti. Se poi, e la speranza di tutti è quella che non accada, dovessero aumentare i numeri, abbiamo a disposizione ancora per un bel periodo i posti che sono stati allestiti nella ex psichiatria per intenderci. Dottor Minora, che insegnamento ci lascia questa pandemia? Che non siamo immortali, direi, ma lo sapevamo già. Però voglio dire, al di là della battuta, secondo me ci ha insegnato che bisogna sempre rimanere con i piedi per terra e forse che tante cose futili a cui oggi stiamo dietro, insomma c'è da ripensarci un attimino.